Anteprima a Los Angeles del nuovo film con Glenn Close, The Wife, la moglie, storia di una donna che dopo tanti anni rifiuta di restare nell'ombra del marito scrittore e premio Nobel. Ma la vera scrittrice è lei. Nel cast anche Jeff Goldblum, Christian Slater, Jonathan Price e Annie Stark, figlia di Glenn Close. E soprattutto lei, l'attrice vestita di nero, in omaggio al movimento Me Too, che spiega ci sono voluti ben 14 anni per fare questo film. Il fatto che sia stato così difficile e che si chiami la moglie, beh, spiega da sì perché ci è voluto tanto tempo nella nostra industria. Sono molto fiera che siamo riusciti a farlo. La maggior parte dei produttori sono donne, il montaggio è di una donna, le musiche sono di una donna. E la storia è qualcosa in cui ogni donna e ogni uomo in una relazione possono identificarsi. Un Oscar sarebbe bellissimo, ma cerco di non pensare a quello che può succedere finché non succede. Sono solo felice di essere qui, parte di questo film magnifico. The Wife, vivere nell'ombra, una coproduzione anglo-americana e svedese diretta dal regista Bjorn Rung, uscirà nell'ottobre 2018. Lei ha un'occupazione, signora Kassan. Io vivo nell'ombra. Io vivo nell'ombra.